Scrivi l'equazione dell'iperbole riferita agli assi con i fuochi sull'asse x, 10 indicità pari a radici di 5 fratto 2 e passante per il punto di coordinate 4 radical 3 e 2. Determina poi l'equazione della rete tangente nel suo punto P di ascissa pari a 2 radici quadrati di 10 e di ordinata negativa. Dimostra che tale tangente è la bisettrice dell'angolo f' pf essendo ff' i fuochi dell'iperbole. Problemone di geometria analitica, stiamo parlando dell'iperbole, problemi di riepilogo, problema numero 257 di pagina 484 della mia edizione, edizione del mio libro Matematica Blu 2.0 volume 3 della Zanichelli Bergamini, Trifone e Barozzi sono gli autori. Non rido perché ormai qualche studente con cui faccio lezione privata mi chiama, anche io quel libro, è un libro che è utilizzato in molte parti d'Italia. Ma ad ogni modo io volevo, al momento in cui sto parlando, in cui sto pubblicando il video, non ho alcuna collaborazione con la Zanichelli, volevo dirlo. Il problema è che si può suddividere senz'altro in tre parti. La prima parte è la determinazione di un'equazione di un'iperbole note determinate informazioni e ci danno le scientificità e il punto A. Dunque, cosa significa l'iperbole riferita agli assi? Vuol dire un'iperbole che ha centro di simmetria all'origine e assi di simmetria agli assi. Quindi questo significa, e ci dicono gli autori, abbiamo menzionati, fuochi sull'asse X. Allora che equazione è l'asta iperbole? E la scriviamo. Che problema c'è? X quadro fratto A al quadrato, tutto in coro, meno Y quadro fratto B al quadrato uguale 1. Sarebbe uguale meno 1 se avessimo avuto i fuochi sull'asse dell'Y. A, in questo caso, è il semiasse trasverso, B è il semiasse non trasverso, meno A, 0, A, 0, sono i vertici reali, cioè quelli in cui l'iperbole incontra l'asse X. 0-B e 0-B saranno invece i vertici cosiddetti immaginari, non reali. Basta. Non c'è altro da dire. Y uguale più o meno B su A per X sarebbero, se volete rappresentare l'equazione degli asintoti e le scientificità. In questo caso, ve lo ricordo, è il rapporto tra la semidistanza focale C e il semiasse trasverso A. E i fuochi F1, F2, in questo caso li chiamiamo F, F' avranno coordinate, ve lo ricordo, F' quello di sinistra, meno C, 0, ed F quello di destra, nel semiasse positivo dell'X, C, 0. E C chi è? C è molto semplice, C, ve lo ricordo, è la radice quadrata, comunque se stiamo parlando o di un iperbole più fuochi su X o di un iperbole più fuochi su Y, di A quadro più B quadro. Ho detto tutto quanto, possiamo partire, io direi di impostare il nostro sistema che avrà due equazioni e due incognite A quadro e B quadro, che sono appunto i due semiassi trasverso e non trasverso elevati al quadrato. Imponiamo che il punto A appartenga all'iperbole, che ci dico che l'iperbole passa per il punto A, io l'ho chiamato A, sempre chiamateli punti con lettere maiuscole dell'alfabeto stampate minuscole. Imponiamo il passaggio, vi ricordo che 4 radica al 3, se riportiamo il 4 dentro, è un radice di 16 per 3, in pratica è un radice di 48, 2 il punto A. Quindi vuol dire che radice di 48 al quadrato è 48, quindi viene che 48 fratto A al quadrato meno 2 al quadrato, 4 su B al quadrato è uguale a 1. Io direi di trovarmi, guardate, B quadro in funzione di A quadro. E qui poi ci metterò l'equazione relativamente all'ecidicità, che però la eleverò al quadrato, cioè scriverò che E al quadrato è uguale a C al quadrato, che è A quadro più B quadro, da quello che ho scritto lì, perché la radice se ne va, diviso A al quadrato. A questo punto vedete che siccome ho qua A al quadrato e qua al quadrato, mi converrà a scrivere B quadro in funzione di A quadro, e qui avremo tutto quanto in A quadro, e qui avremo un 5 quarti, cioè sarebbe radica al 5, 2, e su 2 elevato al quadrato. Cosa faccio? Porto meno 4 su B al quadrato a destra, diventa 4 su B al quadrato uguale, 48, non guardate destra e sinistra, guardate l'uguale come vostro, no? Come vostro specchio, guardate il balletto. Guardate, lo specchio meno 8 è pazzo, direi, no? Professori, ehi, se non ti ho così ragazzi, non fissiamoci che a sinistra ci deve essere una cosa a destra, è uguale, sinistra e destra qui sono uguali, è l'uguale che conta, no? A questo punto facciamo un minimo comune multiplo, 4 su B quadro è uguale a A al quadrato di minimo comune multiplo, e qua abbiamo un 48 meno A al quadrato. Adesso ribaltiamo numeratore con numeratore, a sinistra va ribaltato numeratore con numeratore anche a destra, quindi otteniamo che B quadro quarti è uguale a A al quadrato diviso 48 meno A al quadrato. E così vedete che otteniamo che B quadro, guardate che bellezza, non ho scritto, B quadro è proprio 4, moltiplicando per 4 entrambi i membri, 4 A al quadrato diviso 48 meno A al quadrato. Così vedete che qui ci metterò 5 quarti, e che cosa è uguale? È uguale, sotto abbiamo A al quadrato e su questo non ci piove. E qui abbiamo, sicuramente, guardate, qui dovremmo scrivere, guardate, va bene, qui dovremmo scrivere che cosa? Dovremmo scrivere A quadro più B quadro, ma anziché scrivere A quadro più B quadro, scrivo A quadro, più e al posto di B quadro ci scrivo 4 A quadro diviso 48 meno A al quadrato. Così qua faccio un minimo di tutto che è 48 meno A al quadrato e scrivo A quadro per 48, ovvero 48 A al quadrato, meno A alla quarta, perché dovremmo scrivere meno A quadro per A quadro, che fa meno A alla quarta, più 4 A al quadrato. 48 meno A al quadrato, scala al denominatore lì, e quindi, questo qui diventa ovviamente quello che ho scritto lì, cioè diventa B quadro, qui scriveremo B al quadrato uguale a 4 A al quadrato diviso 48 meno A al quadrato. Questo, ripeto, è 48 A, dunque qui abbiamo un 52, occhio A, ho cancellato, quello è un A quadro, quello è un meno A quarto, quello è un 4 A quadro. In definitiva, concitiamoci su questa. Abbiamo che 5 quarti è uguale a, dunque A quadro per, abbiamo un meno A alla quarta sotto, più 48 A al quadrato. In pratica, ripeto, questo qua è passato qua sotto e ho moltiplicato A quadro per meno A quadro per 48. Qua abbiamo un 52 A al quadrato, perché ho fatto 48 A quadro, più 4 A quadro, meno A alla quarta. Che si fa in questi casi? Si fa questo per questo uguale a questo per questo, si fa un bell'incrocio, ricordatevelo ragazzi, non ci si sbaglia mai in questo modo, e ottengo un meno 5 A elevato alla quarta, più 5 per 8 fa 40, 0 col riporto di 4, viene un 240. 240 A elevato a quadrato, che sembra una zampa di gallina, ma chiedo scusa se non lo scrivo male. è uguale a, dunque, 4 per 2, 8, 4 per 5, 20, 208 A al quadrato, ci siamo? E meno 4 A alla quarta. In pratica porto questi due là e ottengo 5 A alla quarta, meno 4 alla quarta e un A alla quarta. E poi devo fare sicuramente meno, poi bisogna fare 240 meno 208, che adesso per sicurezza faccio qua, io non l'ho fatto prima questo esercizio, è 132, giusto? Sì, meno 132, no, cavolo stai dicendo Willis, 240 meno 200, ho scritto 108, è 32, sì, deve essere 32, infatti viene A quarto meno 32, chiedo scusa, A al quadrato uguale 0, raccolgo A al quadrato a fattore comune, mi rimane A al quadrato meno 32 uguale 0, a questo punto vi ricordo che sia A al quadrato che B al quadrato non possono essere 0, quindi posso dividere quell'equazione di quarto grado, che ho scritto raccomando A quadro, possiamo dividere per A quadro una parte alta, perché A quadro è comunque diverso da 0, quindi se ne va quell'A quadro lì davanti, e in pratica trovo facilmente che A quadro è uguale a 32, quindi ce lo scrivo qui, X quadro 32esimi, ma se A quadro è uguale a 32, e se lo metto qui 32, io vi ricordo che 48, 48 meno 32 è 16, 4 sedicesimi è un quarto, 32 quarti e 8, quindi trovo facilmente che B quadro, mentre il grafico di Giorgio ve lo faccio vedere, tutto quanto alla fine con tutta la barra d'A finale della bisettrice, quindi quello è 8, e vi confermo assolutamente questo risultato, la bontà di quello che abbiamo fatto, quindi A quadro 32 e B quadro 8. E questa è quindi l'equazione, tra l'altro a questo punto fatemi scrivere che F primo lo, vado, dunque C quadro è A quadro e B quadro, quindi è 40, C è radice di 40, quindi meno radice di 40, dunque radice di 40 ve lo ricordo, è radice di 4 per radice di 10, quindi è un meno 2 radici di 10, 0 sono le coordinate di F primo, cioè del fuoco che sta nel semiasse negativo delle X, e l'altro, il simmetrico è F, è 2 radici di 10, 0, quello che sta nel semiasse positivo delle X, tra l'altro si può scrivere anche radici di 40, 0, e meno radici di 40, 0. E va bene, volevo dirvi che questa equazione qua, in forma cronica, che è corretta, si può anche scrivere facendo un minimo con il multiplo, quindi 32, e moltiplicando proprio 32 da una parte all'altra, quindi volendo si può scrivere anche come X quadro, meno 32 diviso 8 fa 4, per meno di Y quadro è meno 4Y quadro uguale 32, quindi meno, se volete, 32 uguale 0, in forma anche così estesa, implicita, se volete, equazione cartesiana della mia iperbola. A questo punto andiamo a rispondere alla seconda domanda, che è la domanda B, determina l'equazione della retta tangente nel suo punto, ma di chi il suo? E' dell'iperbole, quindi vuol dire che lì questo punto P, che ci dicono avere ascissa P, avere ascissa 2 radici di 10, che tra l'altro coincide con l'ascissa di uno o due fuochi, tra l'altro, in pratica appartiene all'iperbole, quindi avrà un'ordinata a questo punto, non è che ha solamente un'ascissa, che ordinata ha? Beh, basta prendere sto radici di 40, che è 2 radici di 10, e lo buttiamo alla X qui, avremo un'unica conietà che è Y quadro, ci troviamo Y, ci troviamo due valori di Y, perché abbiamo un Y quadro, uno sarà positivo, uno sarà negativo, e voi ci dicono di ordinata negativa, quindi saremo nel quarto quadrante, ascissa positiva e ordinata negativa, infatti se lo fate, andremo a metterlo qua, vedete, viene un 40, perché radici di 40 quadro è 40, meno 32 uguale 4Y quadro, visto che 40 meno 2 fa 8, Y quadro è 8 quarti, ovvero Y quadro è 2, Y uguale più o meno radica al 2, ma scegliamo il meno, ci saranno quindi due punti, eccolo qua. Allora, tra poco ci andremo a designare il tutto, manca solamente la tangente, che scriverei utilizzando la formula dello, come lo chiamiamo? Sdoppiamentus. Perché sdoppiamento? Perché appartiene a questo punto, sia alla tangente che all'iperbole, quindi utilizziamo questa formula qua, molto più semplice, X con 0 fratto A quadro, meno, Y con 0 fratto B quadro, uguale 1. Fino a punto B compreso è, il problema è facilissimo, visto anche tante volte, X con 0 è 2 radica al 10, Y con 0 è meno radica al 2, A quadro è 32, B quadro è 8. Quindi otteniamo un 2 radici di 10 fratto un 32, meno, con questo meno più, radici di 2 per Y fratto sempre 8, meno 1 uguale 0, ho portato l'1 a sinistra, ma qui abbiamo un 2 tante duesimi che è ovviamente un sedicesimo, moltiplichiamo per 16 di una parte all'altra, perché fra 8 e 16 il minimo è 1 uguale 16, otteniamo un, ovviamente qua c'è X ragazzi, otteniamo che la tangente la indichiamo con T minuscolo, mi sembra che su George, ma sì, sia, no, sì, T, dobbiamo poi dimostrare che questa è bisettrice, ma utilizzeremo un argomento che abbiamo fatto parecchio tempo fa, T sarà quindi pertanto radici di 10 fuori dalla radice per X, 16 diviso 8 fa 2, per radice di 2 è 2 radica al 2 o radica al 8 se preferite per Y, meno 1 per 16 meno 16 uguale 0, vi confermo che questa è la tangente. Dunque, tra poco vi faccio vedere il tutto, adesso ci andiamo a disegnare il tutto. Sì perché, per capire bene il tutto, ho detto tutto almeno 4 volte, per capire bene questo problema bisogna disegnarci la situazione. Allora, dunque, intanto, va bene, intanto su George va a stare vedendo tutto quanto, stare vedendo i due rami di perbole, in particolare avete i due fuochi, F primo ed F per la verità, vi dico subito che su George, e quindi cambieremo adesso la lavagna a cambio, F è meno 2 radica al 10 e 0, ed F primo è 2 radica al 10 e 0, per essere precisi, quindi ho invertito, quindi F primo per intere c'è quel punto che sta nel similasse negativo delle X, vedete, ed F invece è quello che sta nel similasse positivo delle X, vedete che ho tracciato appunto i terzi segmenti che formano quel triangolo che il testo ci chiama il triangolo F primo P F, vedete che c'è il punto A di coordinate 4 radica alle 2, quello iniziale, che appartiene all'iperbole che sta nel primo quadrante, vedete che il punto P, che è il punto di tangenza, che appartiene all'iperbole che sta nel quarto quadrante, e vedete che c'è appunto la tangente tracciata. Siamo tornati, poi dopo ve lo faccio rivedere, cosa volevo fare? Dunque l'iperbole non lo attraccio in questo caso, mi interessano i punti, perché vogliamo dimostrare che la tangente che va a tracciare è bisettrici dell'angolo che in pratica si forma, è l'angolo in P. Dunque, cosa voglio utilizzare? Dunque, vi ripeto, quando abbiamo fatto le rette, abbiamo parlato di equazioni delle bisettrici, degli angoli formati da due rette, e mi scriverò queste due equazioni, e vi dimostrerò che una delle due è proprio l'equazione, della tangente, avremmo dimostrato appunto l'asserto, cioè quello che ci chiede il testo. Dunque, facciamo fin, dunque, radici di 40 è un numero compreso fra 6 e 7, meno radici di 40 è un numero compreso fra meno 6 e 7, perché radici di 49 è 7, e radici di 36 è 6. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vedete che so contare anch'io, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vedete come sono spiritoso. Allora, diciamo che meno 2 radica al 10, quindi, allora cambiamo, questo è f' e questo è f, così, seguiamo quello che, qualcuno, che poi sono io, su George me l'ha scritto, quindi questo è f, e quindi vuol dire che qui c'è f' primo, notiamo che f' però ha la stessa scissa di p, ma l'altezza, verso il basso, perché è negativa, è meno radica al 2, che radica al 2 è 1,41, quindi, se questo è 1, diciamo che stiamo qui, ecco il punto p, qui c'è p ragazzi, in pratica, cosa conviene fare? ci formiamo il nostro triangolo, eh sì, domani mattina, facciamo un pochino più in basso, questo p, me lo permettete, però, altrimenti viene una barra onda, bisogna fare un disegno molto chiaro, ma molto chiaro, nel senso che bisogna comunque, fare in modo di, ecco, facciamo, facciamo una cosa del genere, eh, facciamo finta che p, che p sia questa, questa qua, vedete, questo angolo qui, la tangente che adesso traccio, deve essere bisettrice, deve dimostrare che sia bisettrice di quell'angolo, tangente che ha intercetta, 16 fratto radice di 10, basta dare, in pratica, basta dare, chiedo scusa, basta dare, è 16 su 2 radice di 2, basta dare 0 alla x, che x uguale 0 è l'equazione dell'asse delle ordinate, che quant'è? Dunque, 16 in pratica su radice di 8, ma 16 su radice di 8 è 16 ottavi radica l'8, perché 1 su radica l'8 è radica l'8 su 8, e 16 ottavi è 2, 2 radici di 8 in pratica, ma radice di 8 è 2 radica l'2, quindi 4 radica l'2 è 0, quindi, 4 radica l'2, tenendo conto che radica l'2 è 1 e 41, se lo moltiplicate per 4, è un 5,6, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, ecco, questo è il punto, passa per qui la mia retta, la tangente, e in testa che l'asse x, stavolta dando 0 alla y, nel punto 16 fratto radica l'10, per essere per noi di cronaca, 16 su radica l'10 è 16 decimi radica l'10, tenendo conto che, questo si può semplificare per 8 e questo per 5, 8 quinti radical 10, e quant'è? uno dice, quant'è 8 quinti? Radical 10, tenete presente che ve lo dico subito, è 3,1, se lo moltiplicate per 8, ve lo dividete per 5, ottenete un 5, leggermente più di 5, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 7, ecco, e allora diciamo, manco per idea, facciamo finta che sia questa, chi è questa? T, fortissima, vabbè, che cosa dobbiamo fare? ma intanto ci sono, ora, qui non si vede ma, in realtà conviene scrivere l'equazione di, della retta che contiene il segmento fp, e della retta che contiene il segmento f'p, utilizziamo quella formula con i moduli, delle bisettrici degli angoli formati da queste due rette, sono due perché c'è mancuna la, una delle due sarà quella, guardate, ricordatevelo questo, partiamo? allora, l'iperbole ve l'ho fatta vedere, poi ve la faccio vedere ancora una volta dopo, cominciamo a scrivere l'equazione di f'p, beh, f'p è una retta verticale, è una retta verticale, è equazione, x uguale la scissa sia di f' che di p, x uguale 2 radical 10, quindi f'p, cioè la retta contenente del segmento, ha equazione x meno 2 radical 10 uguale 0, ci siamo? Benissimo, siamo un pochino più complessi, un pochino più elaborato, è il calcolo della retta contenente, il lato fp, per farlo, retta che passa per due punti, allora, f è questo, ve lo segno, p è questo, che vogliamo fare? Facciamo questo, y meno y con 1, fratto y con 2, meno y con 1, uguale x meno y con 1, fratto y con 2, meno y con 1, è l'equazione di una retta che passa per due punti, quindi y meno 0y, diviso, meno radical 2 meno 0, meno radical 2, uguale x più 2 radical 10, fratto che cosa? Fratto 4 volte radical 10, perché 2 radical 10 meno meno, quindi più 2 radical 10, ma 2 radical 10, lo scrivo qua, è 2 radical 5 per radical 2, perché la radice di 10 è la radice di 5 per la radice di 2, quindi siccome qui c'è un 2 radical 5 per radical 2, posso eliminare la radica di 2 qua e la radica di 2 qua, quindi mi rimane un meno y, guardate, uguale a che cosa? a x più 2 volte radice di 10, diviso 2 volte radice di 5, se adesso spezziamo in due questa frazione divisa da più al numeratore, e cambiamo i segni perché c'è meno y, otteniamo l'equazione in forma, guardate cosa faccio però, preferisco, sapete fare che cosa? prima scrivo, guardate, prima scrivo, meno 2 radice di 5y, uguale x, più 2 radici di 10, porto questo là, e l'equazione in forma implicita di questa retta contenente fp e x, più 2 volte radice di 5y, più 2 volte radice di 10, uguale a 0, va bene? fatto questo, in pratica io vi ricordo che, la formula, che consiste nel calcolare due bisettrici, è, modulo di ax, più by, più c, fratto radice di a quadro più quadro, uguale a, modulo di, a primo x, più b primo y, più c, prima, fratto radice di a primo quadro, più b primo quadro, cioè in pratica dobbiamo scrivere, che il modulo di, x, meno 2 radici di 10, fratto la radice di a quadro più b quadro, dove a e b sono sufficienti i coefficienti di questa retta, ma qua c'è solamente a, b non c'è, perché non c'è by, quindi c'è fratto 1, quindi fratto 1, è uguale al modulo di, x, più 2, radici di 5y, più 2 radici di 10, tutto fratto che cosa? Tutto fratto 9, perché sarebbe un, 5 per 2, 5 per 4, oh, attenzione, tutto fratto, dunque, c'è un errore in quello che ho fatto? Mi risulta un 4, ecco, sapete? Mi risulta un 4, 6 per 4 ragazzi, 2 radical 5, mi risulta un 4, mi risulta un piccolo errore qua, sapete? Mi risulta anche a voi, lo vogliamo ricontrollare? Lo ricontrolliamo, perché, in pratica avevo y meno 0 fratto meno radical 2 uguale x più 2 radical 10 e ci siamo, fratto 4 radical 10, 2 radical 10 meno meno 2 radical 10 e in effetti ho eliminato radical 2 radical 2 e questo è un 4, è un 4 ragazzi, non 2, questo è un 4, quindi questo è un 4 radical 5 e quindi questo è un 4 ragazzi, attenzione a questi errori, perché lo so che me l'avete scritto nei post che siete dei razzi, voi siete attentissimi e vi ringrazio, ma ho corretto adesso, volevo dirvelo, quindi potete cancellare pure il post che io probabilmente avrò anche letto perché mi arriva, Volevo dire questo. Bene, 5 per 16 fa 80, più 1 81, la legge 81 è 9, deve venire 9 ragazzi, ve lo confermo, 9. Dunque, come si fa questa equazione con i moduli? Questo è uguale a più o meno questo, si fa così, si eliminano i moduli, eliminando i moduli si scrive questo uguale più o meno questo o questo uguale più o meno quello è uguale. E quindi, guardate cosa vengono, vengono due rette, vi ricordo che queste due rette, una di queste due sarà quella e se sarà quella avremo dimostrato che t è proprio la tangente, proprio la bisettrice di quest'angolo, cioè lo divide in pratica in due parti uguali. L'angolo formato cioè da queste due rette che sono proprio la retta f primo p, x meno 2 radica 10 uguale a 0 e f p. Va bene? E adesso partiamo con scrivere che x, quindi 9 davanti che moltiplica x meno 2 radica 10 dopo moltiplicato per 9 ambo i membri è uguale a più o meno x più, e qua non ho corretto però, caspiterina, ecco qua, c'è un 4, un più 4, radical 5y più 2 radical 10 ne vengono due una è 9x meno 18 radical 10 uguale una è questa qua quindi x più 4 radical 5y più 2 radical 10 una è meno x meno 4 radical 5y meno 2 radical 10 prendetela entrambe fate la prova vi dico subito, vi informo che dovete prendere la seconda quindi portiamo questi termini la e viene 9x più x e viene un 10x qui poi abbiamo un più 4 radical 5 per y e poi abbiamo un meno 18 radical 10 più 2 e un meno 16 radical 10 uno dice ma qua ragazzi è sbagliato non è quella non è quella di su allora è quella di su perché basterà dividere tutto quanto ambo i membri per radici di 10 vi ricordo che 0 su radici di 10 è 0 vi ricordo che dividendo 10 per radici di 10 viene radici di 10 razionalizzato quindi in effetti mi viene radici di 10 per x 4 se fate 4 radici di 5 diviso radici di 10 che vi ricordo è radici di 5 per radici di 2 guardate se ne vanno radical 5 radici di 5 viene 4 su radical 2 ma 4 su radical 2 è 4 mezzi radici di 2 perché 1 su radical 2 è radical 2 su 2 4 mezzi di 2 quindi questo viene un più 2 radical 2 per y come effettivamente deve venire e poi ovviamente meno 16 radici di 10 diviso radical 10 è meno 16 guardate un po' è venuto fuori questa l'altra ovviamente che è questa qua utilizzando questa e portando quello lì sarà l'altra equazione della bc una di queste proprio la tangente ed è questa che in effetti coincide con t abbiamo risolto anche questo problema ciao